E cambiamo decisamente argomento, la leadership femminile tra successi e difficoltà al centro oggi di un convegno in un'industria como a confronto storie di donne e in studio con noi c'è proprio una delle relatrici che oggi ha partecipato all'evento, do il benvenuto ad Adriana Sartor-Cremaschi, imprenditrice e componente dell'International Women's Forum. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, ricapitolo, per chi non lo conoscesse, l'International Women's Forum promuove la leadership femminile attraverso le carriere, le culture, i diversi continenti, attraverso anche le donne più autorevoli dei vari settori, giusto? Sì, diciamo che più che donne autorevoli sono le donne più coinvolte. Uno degli obiettivi dell'International Women's Forum è che tra l'altro è un'organizzazione a livello mondiale, quindi tocca problemi diversi, perché la leadership si sviluppa in modi diversi a seconda dei paesi, a seconda delle culture, a seconda anche del contesto sociale che circonda chiaramente le persone che sono chiamate ad assumere un ruolo poi di guida delle persone che stanno vicino. Allora, nel favorire la leadership femminile va detto che ogni nuova attività che una donna apre se ne creano altre sette collaterali, quindi questo è un grosso motore di sviluppo, ad esempio, per i paesi che hanno maggiori difficoltà, dove naturalmente sono anche i paesi più poveri e vogliamo parlare della microeconomia, piuttosto che nei paesi più industrializzati, perché non dimentichiamo che anche nei paesi industrializzati esistono problemi che sono, cioè il fatto che una donna faccia carriera, stia spesso fuori casa, pone problemi di conciliazione, ad esempio, che è un problema molto serio perché il ruolo della donna è ancora quello tradizionale, 20.000 anni di evoluzione non si cancellano con un colpo di spugna e naturalmente la donna è chiamata ad assumere ruoli molto diversi. Una delle donne che fa parte di questo forum è, per fare un nome molto sentito in questi giorni, Hillary Clinton. Hillary Clinton, sì, è una delle nostre socie ed è una socia che ha lavorato molto soprattutto per l'universo femminile. Come dicevo, per il discorso della conciliazione, anche per il cosiddetto telelavoro, perché nonostante le tecnologie, nonostante le possibilità che abbiamo, di concepire anche una forma di lavoro del tutto diversa, quindi con modalità più attinenti a quelli che possono essere i bisogni evolutivi di una società che cambia. Pensiamo e diventiamo più vecchi, ad esempio, quindi non c'è solo la cura dei minori, ma anche quella degli anziani. Allora, devo dire che una persona come Hillary Clinton molto ha fatto per sensibilizzare i governi e per prevedere anche norme, regole, e lavorare anche con i sindacati, con le parti sociali, perché anche loro sono coinvolti in questo processo che è poi l'evoluzione della nostra società. E quindi molto è stato fatto, ma molto ancora è da fare, queste mi sembrano le linee guida da percorrere. Io la ringrazio per essere stata con noi e buon lavoro. Grazie a voi per l'attenzione, grazie davvero. Grazie.